Approvato nel corso dell'ultimo consiglio lo schema di convenzione tra il comune di San Giovanni Valdarno e la società San Giovanni SRL che ha acquisito la proprietà dell'area di Borgo Arnolfo. Un passo in avanti fondamentale verso la ripresa dei lavori nel cantiere. Con l'accettazione dell'atto potrà infatti concludersi la fase istruttoria e sarà possibile procedere con il rilascio del permesso di costruire. Dopo oltre 12 anni l'ex ospedale Alberti, collocato proprio alle porte del centro storico della città, potrà indossare una nuova veste. Ed in questi giorni ha spiegato l'assessore a lavori pubblici Francesco Pellegrini la consegna del progetto per il completamento degli edifici. L'obiettivo di questa amministrazione è quello di chiudere la fase istruttoria prima dell'inizio dell'estate nel rispetto anche degli obblighi convenzionali in modo da mettere il soggetto privato nelle condizioni di poter iniziare al più presto i lavori. L'amministrazione ha ridotto i tempi concessi per l'esecuzione dell'intervento da 6 a 4 anni con l'obiettivo di restituire quanto prima quell'area rinnovata con una nuova piazza e nuove attrezzature alla città. Rimangono confermate le previsioni delle aree di destinazione pubblica da cedere al comune a titolo gratuito per opere di urbanizzazione di interesse collettivo di quartiere. In questa direzione l'intervento, almeno nelle premesse, specifica ancora l'assessore Pellegrini, presenta tutte le caratteristiche per poter essere un elemento fondamentale per la riqualificazione nel breve periodo dell'area del centro storico, anche in sinergia con il completamento del teatro comunale Bucci.